Per la prima volta nella sua storia il Monza viene in Serie A e finisce così la partita all'Arena Garibaldi di Pisa Il Monza batte 4 a 3 il Pisa dopo i tempi supplementari partita pazzesca, bellissima, alla fine la spunta il Monza ragazzi Con grinta e cattivina la spunta il Monza anche se per lunghi tratti il Pisa è stato superiore al Monza per lunghi tratti di partita Ma poi durante i tempi supplementari e nel secondo tempo è uscito fuori il Monza diciamoci la verità Oggi bellissima partita questa è stata la vera finale che volevo vedere a questi playoff Ciao ragazzi bentornati in questo video qui ragazzi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto qui nel Javits commento il post partita di Pisa Monza che finisce 4 a 3 per il Monza Il Monza per la prima volta fa storia ragazzi Viene in Serie A nella serie più importante in Italia Per la prima volta nella sua storia E grande merito ragazzi di tutto il gruppo del Monza che oggi come tutto il campionato del Monza è stato sempre a lottar vertice In Serie B finalmente la spunta fuori la squadra che meritava di più a livello stagionale Perché il Pisa in entrambi i match si è andato bene durante i playoff Però in generale la stagione del Monza secondo me è stata superiore a quella del Pisa Nulla da dire al Pisa che ha fatto una grandissima partita e comunque meritava di andare in finale Quindi è stata veramente una bella finale ma la spunta la squadra secondo me con i singoli più forti Ovvero il Monza Prima di parlare della partita vi ricordo alcune semplici cose Quindi iscrizione, quindi è gratis Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, le notifiche per rimanere sempre aggiornati Vi raccomando un mi piace, condividete il video E commentate, ditemi il vostro parere qui sotto nei commenti Ovviamente che ne pensate di questa partita ma in generale di questa Serie B a 360 gradi Ditemelo la vostra qua sotto E niente, vi ricordo di seguirmi sui social, link che trovate tutti quanti in descrizione Instagram, piattaforma viola, TikTok Parliamo della partita Allora, oggi appunto si è svolta la finale all'Arena Garibaldi di Pisa C'era il playoff di ritorno In cui l'andata, vi ricordo, era finita 2-1 per il Monza Quindi in realtà il Monza aveva 2 risultati su 3 per passare Quindi dove bastava anche il pareggio sarebbe comunque passato il Monza In realtà passa in vantaggio a 45 secondi Prima di fare il post partita vi ricordo che comunque ci tengo a fare i complimenti a entrambi le squadre Perché veramente è stata una grandissima finale, bellissima partita E faccio i complimenti a entrambe le squadre per la partita In sé per sé Allora, passa in vantaggio a 45 secondi Ragazzi, Ernesto Torregrossa, gol dell'1-0 L'uomo delle partite importanti, ragazzi Non ha fatto una grande stagione Torregrossa Però nei match decisivi la sblocca lui Gol dell'1-0, si fa trovare pronto su una palla sporca E il gol dell'1-0 lì distratta la difesa del Monza Poi passa nel doppio vantaggio Quindi al nono minuto il Pisa vinceva 2-0 Gol di Hermason Bello pallone tagliato in mezzo Lui si inserisce, Hermason e la butta dentro Gol del 2-0 del Pisa, un gol un po' sorpresa Il secondo gol, ma anche il primo E poi ragazzi al ventesimo Accorcia le distanze Macin Che ha fatto una grande partita Lui mi è piaciuto veramente tanto Oggi si è sacrificato tanto È stato molto propositivo E ha fatto una grande partita a Macin Se non sbaglio Ex-talentino che già ha giocato in Serie A Se non sbaglio Sto nome mi risuona in mente Non mi ricordo se è all'Udinese forse Comunque è già a Mesa che conosce il campionato Dele Serie A Macin Comunque è in prestito Se non sbaglio al Monza Comunque segna il gol dell'1-0 Si fa trovare pronto su un'azione Di Danny Moda Carvaglio La deviazione si trova pronto lì Macin che la mette sotto la traversa Dove il portiere non ci può arrivare Oggi è stata un po' disastrosa La difesa del Pisa in generale Ma anche il portiere Oggi male, 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 male Nicolas e tutto il blocco difensivo Le Verbe pure Biraldinelli disastroso Poi nei tempi supplementari Comunque Poi accorcia le distanze ragazzi Parcela arriva al gol del pareggio Al 70-9esimo gol di Guitgaer Ragazzi Uomo delle partite importanti Entra e decide sempre ragazzi 13esimo gol stagionale per Guit Christian Guitgaer Attaccante danese Che segna sempre Da subentrato ragazzi Pensate voi Ha fatto 13 gol in campionato Non essendo il titolare praticamente Non essendo il titolare Ha fatto 13 gol E quasi sempre da subentrato E 4 gol li ha fatti solamente Durante i playoff E vi dico tutto E poi A sorpresa Al 90esimo Arriva il gol del pareggio del Pisa Ragazzi Con il pareggio Il gol del 3-2 del Pisa Al 90esimo Gol di Mastinu ragazzi Che ha fatto il secondo gol Con la maglia del Pisa Quest'anno E tra l'altro lo fa in un match importante Come la finale Grande gol Veramente bello E poi ragazzi Nei tempi supplementari Stradominio Monza Nei tempi supplementari Il Pisa era arrivato Aveva dato il 100% Durante tutta la partita E è arrivato a stremato E il Monza Qui l'ha fatta la differenza Secondo me La panchina Il Monza È una rosa Molto più lunga Di quella del Pisa E secondo me I subentrati Hanno fatto la differenza Gittier E lo stesso E anche D'Alessandro Che è entrato Ha fatto l'assist Per i gol di Gittier Assist è bellissimo Come il solito D'Alessandro E Gittier Sono gli uomini Sempre decisivi Dalla panchina Entrano E fanno Uno gol E uno assist Quindi Al centunesimo Arriva la No aspetta Arriva al novantasesimo Arriva la doppia E arriva Il gol di Luca Marrone Sul calcio d'angolo E Appunto Si fa trovare pronto Luca Marrone Colpo di testa Inzaccata E gol del Del 3 a 3 E poi al centunesimo Ragazzi Arriva il gol Della doppietta Di Christian Gittier Che si trova A trouper tu Con il portiere Disastroso Qui in questo caso Birardine Come si chiama? Birandelli Disastroso è stato oggi E appunto Gol del 4 a 3 E poi Finisce così Alla fine Finisce 4 a 3 Per il Monza Monza che fa storia Viene in Serie A Per la prima volta Nella sua storia Fatemi sapere la vostra Qui sotto Starà godendo Ovviamente Berlusconi Cagliani Staranno godendo Come pochi Sono contento Perché Il Monza È una squadra Che volevo vedere In Serie A Perché non c'è mai stata E Sono contento Che è venuto il Monza Anche perché Sul campo ha meritato In generale Durante tutta la stagione Di essere superiore Alle altre C'ha anche una rosa Molto più lunga Quindi secondo me Qui è stata un po' La meritocrazia La partita della meritocrazia Nulla Nulla vieta Al Pisa Che ha fatto una grande partita Quindi faccio complimenti Anche al Pisa Ma al Monza Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti E niente Da qui è tutto E noi come al solito Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Sempre comunque Forse calcio Ci sarà tanto calciomercato Quest'estate Quindi vi aspetto Per altri contenuti E come al solito Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Recuperate i video vecchi Li trovate a fine video E nelle schede Ciao raga Vamos Bella Bella